E lo spazio della settimana lo abbiamo dedicato alle recenti scoperte che illuminano alcuni enigmi sul quadro della Gioconda e che hanno avuto anche eco internazionale. Vediamole insieme a Silvano Vinceti, il professore che ha guidato questo team di studiosi. Io vi aspetto qui lunedì prossimo, parleremo come sempre di arte. Finora quello definito enigmatico è stato il sorriso, adesso a svelare il pensiero di Leonardo sarebbero invece gli occhi. Gli studiosi del comitato che già hanno portato all'individuazione delle ossa del Caravaggio hanno analizzato la Gioconda, le sue varie stratificazioni, i ritocchi che Leonardo vi ha portato nel tempo, facendone una sorta di suo testamento filosofico, esoterico e teologico. Negli occhi ad una lettura digitale compaiono una S ed una L. La S indicherebbe Salai, il passionale lavorante di Leonardo. L'altra pupilla? L'L. L'L ha due significati. Uno che è riconducibile in parte a alcune caratteristiche del modello, l'Isa che i raddini. Quell'altro L è Leonardo ed è la trasposizione nella Gioconda, in questa serena tranquillità, in questa maestosa quasi realizzazione di un equilibrio, di un'armonia, di un raggiungimento, di un superamento, di un conflitto interiore che Leonardo si porta con sé tutta la vita anche nel rapporto tra la madre naturale, Caterina, l'altra madre e che Freud, Jung e anche Andrea Genea hanno espresso molto bene come una specie di sublimazione per ritorno anche al ventre materno, all'unità indistinta della felicità. Quindi dei messaggi che più che esoterici sono messaggi psicoanalitici, passionali. Diciamo che il dipinto della Gioconda va visto a diversi livelli, come la Bibbia. C'è sia una dimensione psicologica esistenziale, sia dei conflitti che vive Leonardo, ma c'è anche una traduzione che ci dà il numero 72. Ecco, il numero che compare sotto l'arcata del ponte. Che è un numero che ha molteplici significati e che è bene ricordarlo, già nel Vecchio Testamento 72 sono le 72 parole attraverso le quali si pronuncia la parola di Dio, 72 sono i profetti, 72 sono i discepoli dell'ultima fase di Gesù, ma il 72 ha anche un significato di carattere cabalistico, il 7 e il 2, che sono una tradizione cabalistica, ma anche di quell'umanesimo della fine 400, il fiorentino in cui Leonardo poi cresce, si forma, e spesso da Marsiglio, vicino da Picco. Il 7 è la creazione, la genesi che Leonardo interpreta sia in chiave religiosa, teologica, ma anche in chiave naturale e biologica.